Ci siamo accordati e firmeremo il protocollo d'intesa ad Agropoli di sabato mattina il 6 giugno ad annunciarlo in anteprima su Cilento Channel e il primo cittadino capaccese Franco Alfieri che dà una data all'effettivo inizio del progetto turistico comune di tre grandi realtà come Capaccio Pestum, Agropoli e Castellabate. Si formalizza sulla carta il protocollo già approvato dalle delibere, si parte con tre comuni complementari fra di loro che insieme sono una grande potenza turistica, io ci credo. La classe politica ora vuole lavorare assieme, inizia una storia e un grande progetto di sviluppo che darà dignità, lavoro e ricchezza al territorio. Queste le parole di soddisfazione del sindaco Franco Alfieri che già in una precedente diretta sulla nostra emittente insieme ad Adamo Coppola e Costabile Spinelli aveva parlato di questa collaborazione come traino per l'intero territorio nonostante le difficoltà causate dal covid-19. ora attesa al 6 giugno per questo importante evento che potrebbe dare una nuova forza turistica al territorio del Cilento.